Infiltrazioni di acqua che hanno provocato muffa e muri scrostati e danni all'interno di alcuni locali dell'Istituto Comprensivo Como, Prestino, Breccia. Nei giorni scorsi la dirigente scolastica si era vista costretta a pubblicare sul sito internet una serie di disposizioni urgenti che hanno coinvolti i plessi di Via Isonzo e Via Nicolodi, Elementari, Via Picchi Medie e Piazzale Giotto, Scuola dell'Infanzia. Un elenco di spazi temporaneamente interdetti alle attività scolastiche per sicurezza. Lunedì il sopralluogo dei tecnici comunali nella scuola media di Via Picchi per verificare lo stato della struttura. Secondo indiscrezioni sembrerebbe che sul fronte ai lavori a causa delle condizioni in cui versa l'edificio la scuola avrebbe la priorità sugli altri plessi. Al momento però non si conosce ancora la data in cui inizieranno gli interventi. L'assessore ai lavori pubblici di Palazzo Cernezzi, Vincenzo Bella, ha fatto sapere che sono stati impegnati 250.000 euro per la manutenzione straordinaria degli immobili dove la priorità è stata assegnata alle scuole.